Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il Corico Monpiemonte. Io sono Marco Piemonte, commissario del Corico Monpiemonte. In questa occasione vorrei parlarvi di una funzione che noi riteniamo molto importante, che è proprio caratteristica della nostra attività e che riguarda il cyberbullismo, o meglio la prevenzione, il contrasto a questo fenomeno che è sempre più attuale, ahimè, nella vita dei giovani e quindi nella vita del nostro futuro sostanzialmente, e quindi riteniamo che sia molto importante investire proprio su questa attività. In cosa consiste l'attività del Corico Monpiemonte? Sostanzialmente il Corico Monpiemonte monitora, studia, raccoglie dati e si confronta con enti locali e non soltanto locali, proprio per cercare di prevenire e arginare il fenomeno e poi portare comunque il più possibile informazioni sia alla popolazione in generale ma in particolare proprio ai giovani e quindi magari con incontri nelle scuole, con attività che in qualche modo possano coinvolgere direttamente gli studenti, i ragazzi e anche i bambini nella più tenera età. In quest'ambito l'attività del Corico Monpiemonte è ancora più rafforzata a seguito della sottoscrizione di un protocollo che già era stato promosso nel 2019, rinnovato lo scorso anno e poi rinnovato ulteriormente adesso con il supporto anche di tutti gli altri Corico Monpiemonte d'Italia, pressoché tutti, che si è concretizzato in un protocollo di intesa con l'autorità, il garante della protezione dei dati personali, garante per la privacy. In quest'ambito appunto sia il garante sia tutti i Corico, sostanzialmente tutti i Corico italiani, si sono impegnati a rafforzare questa attività di monitoraggio, di studio, di promozione di tutti gli strumenti utili volti a prevenire e a contrastare il fenomeno del cyberbullismo in modo che si possa sempre più incrementare l'informazione, lo studio e quanto più possibile l'attività di coinvolgimento anche degli studenti, dei ragazzi e dei bambini, perché sull'argomento diventa fondamentale soprattutto la conoscenza di quello che è questo fenomeno, di in cosa consiste e degli strumenti utilizzabili per contrastarlo. In quest'ambito diventa anche importante un'altra novità che sostanzialmente riguarda l'Agicom in collaborazione con i Corecom. L'Agicom recentemente ha richiamato una normativa che è entrata in vigore nel 2020 e che è relativa ad un obbligo particolare che è stato imposto a tutti gli operatori telefonici e internet che consiste nell'obbligatorietà di istituire dei sistemi di controllo parentale di tutti i sistemi informativi e comunicativi di cui noi possiamo soffrire quotidianamente. In particolare quindi tutte queste società che erogano questi servizi hanno l'obbligo di istituire dei filtri o dei sistemi di controllo che gratuitamente devono essere messi a disposizione di tutti gli utenti affinché questi possano bloccare determinati contenuti in modo che i minori siano tutelati e quindi siano garantiti nella loro crescita, nel loro normale sviluppo. Quali sono questi contenuti? Sono quelli che generalmente tutti noi conosciamo e che preoccupano particolarmente, sono i contenuti riservati agli adulti e quindi che magari hanno riferimenti al sesso o contenuti relativi alle armi oppure contenuti relativi alla promozione di fenomeni come l'anoressia o la bulimia oppure quei fenomeni che promuovono le sette volte a cercare di circuire in qualche modo i minori e quindi insomma tutta una serie di argomenti che in me tutti noi conosciamo o quantomeno dovremmo conoscere e che quindi costituiscono un elemento che è fondamentale per la tutela dei minori. Ecco che quindi diventa sempre più importante comunicare a tutta la popolazione, in particolare i minori, i genitori o gli ascendenti, i nonni, che ci sono degli strumenti per poter prevenire e contrastare questi fenomeni. Questi strumenti sono a disposizione di tutti, quindi se ritenete potete andare a visionare il sito internet del Corecom che vi dà sicuramente dei riferimenti in modo che sia possibile anche raccogliere eventuali denunce di fenomeni che appunto vanno contrastati sicuramente o quantomeno prevenuti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie. Sono Veronica Pitea e sono presidente di Aceper. Aceper è un'associazione di categoria che opera nel mondo delle energie rinnovabili. Aceper oggi dà supporto a circa 10.000 imprese sul territorio che hanno deciso di investire nel mondo delle energie rinnovabili. Perché la necessità di un'associazione di categoria come Aceper? Perché Aceper opera direttamente sul territorio dando supporto a chi in tempi non sospetti, quando per tutti la parola rinnovabile era fantascienza, ha deciso di investire pensando però di fare un investimento finanziario. Purtroppo l'impianto alimentato da fonti rinnovabili, fotovoltaico, biogas, biomassa, idroelettrico, eolico è una macchina a tutti gli effetti che ha bisogno di essere manutenuta e ha bisogno di fare tutta una serie di adeguamenti necessari al mantenimento dell'incentivo che lo Stato italiano ha previsto per questo tipo di investimenti. Cosa facciamo di diverso rispetto agli altri? Noi andiamo a visitare direttamente in azienda chi ha deciso di fare questo passo. Perché facciamo così? Perché ogni impianto è diverso, perché ogni imprenditore ha delle esigenze diverse, perché la necessità di trattare ogni caso come un caso singolo è diventata per noi una priorità, perché ci siamo resi conto che le aziende di mestiere fanno tutt'altro, dunque per loro il fotovoltaico è una voce a bilancio, non è il loro core business, motivo per cui hanno bisogno di un professionista del settore che possa affiancare loro in tutte le necessità. Ci siamo anche resi conto del fatto che non si può essere tutologi in questo settore, perché è un settore in continua evoluzione e c'è bisogno di un professionista che possa risolvere ogni problematica che insomma si possa presentare. Parliamo della parte tecnica, dunque lì c'è bisogno di un manutentore, parliamo della parte magari burocratica, lì c'è bisogno di un ingegnere o di un fiscalista, parliamo della parte di adeguamenti e lì anche lì c'è bisogno di un altro professionista ancora. Insomma ci sono tante cose da fare per poter mantenere l'incentivo statale e per poter mantenere questo impianto in funzione, assicurarci che produca al meglio delle sue capacità. Che cos'altro facciamo come associazione per dare supporto agli imprenditori? Abbiamo sviluppato, grazie a un nostro partner tecnico, un software di monitoraggio che ci aiuta a capire quali sono le problematiche dell'impianto in tempo reale, dunque se abbiamo ricevuto tutti i soldi che dovevamo ricevere, se l'impianto funziona perfettamente, se magari ci sono parti dell'impianto che non funzionano, se gli enti comunicano correttamente tra di loro, insomma aiutiamo l'imprenditore a 360 gradi a monitorare questo investimento. A c'è per inoltre, oltre a occuparsi di tutta la parte di energie rinnovabili, diamo supporto alle aziende anche per quelli che sono i nuovi finanziamenti. Per noi il piano nazionale di ripresa e resilienza è diventato un'opportunità, ma soprattutto una mission, perché l'Europa ci ha stanziato questi soldi, ogni euro che prendiamo dall'Europa non diventano due, abbiamo un grosso problema, dunque ACCE per cosa fa? Dà supporto, aiuta le imprese a capire se gli investimenti che devono fare, se i prossimi sviluppi che hanno previsto per le loro aziende possano rientrare in questi piani, in modo da agevolare l'impresa a lavorare con dei finanziamenti a tasso agevolato, con dei fondi perduti, insomma stiamo aiutando le imprese a capire come fare per crescere più velocemente, per portare più beneficio a loro e al paese, ovviamente parlando di numeri. Detto ciò ACCE per è a disposizione di tutti coloro che hanno investito nel settore dei rinnovabili o che possono insomma magari oggi fare questo passo, perché ricordiamoci che a livello demografico siamo cresciuti in maniera esponenziale e siccome non si può fare un downgrade lì, dobbiamo partire dal produttore. Il produttore deve cominciare a cambiare fisicamente e mentalmente, deve produrre in maniera green, pensando così al futuro e dando al consumatore un prodotto innovativo, rinnovabile e che possa il meno possibile danneggiare il pianeta. Benvenuti, ospitiamo in questo spazio l'associazione Insieme e di Più, nata nel 2007 nel Biellese con l'intento di aiutare i bambini e i adolescenti nel loro percorso di vita. Diamo il benvenuto alla Presidente Elisa Incoronato e parliamo subito di povertà educativa, uno dei tanti argomenti che affronta la vostra associazione. Dal vostro punto di vista quali sono le carenze educative nella società di oggi? Le carenze educative in una società come la nostra sono in primis la mancanza di regole, non avere più limiti, i social e in gran parte la colpa è comunque spesso di famiglia e scuola. E per sopperire a queste mancanze educative quali sono le vostre azioni? Noi organizziamo da diversi anni, a partire dalle materne fino ad arrivare al liceo, laboratori di galatteo, buon ton, buona educazione. Organizziamo corsi di teatro, di danza, di canto perché l'arte è la massima espressione educativa, anzi dovrebbero metterla proprio nelle materie curricolari perché insegna a muoversi, insegna a parlare e a rispettare l'altro. Ho visto che organizzate parecchi convegni rivolti ai giovani, quali sono questi i convegni che riscuotono maggiore interesse e maggiore successo tra i giovani? Ne organizziamo molti sulla sessualità, l'educazione all'affettività, sulle dipendenze, le alco, droghe e rapporti pericolosi e tanto altro. Quello che ha riscosso e che riscuote continuamente molto successo appunto è quello sulla sessualità, l'educazione e l'affettività perché abbiamo ragazzi tecnologici ma poi quando si è lì fanno delle domande ai relatori che lasciano veramente senza parole. In questi anni avete organizzato anche diversi convegni sul bullismo e ne avete in programma anche per il 2024, oltre che sul bullismo anche sul cyberbullismo, sulla sessualità come ha già detto prima e anche sull'educazione affettiva. Può anticiparci qualcosa visto che avete in cantiere questi eventi nel 2024? Abbiamo uno in una scuola media di Candelo che è sulle dipendenze, un altro a Gaglianico, poi con i liceni avremo uno appunto sulla sessualità, l'educazione e l'affettività e sul bullismo, il cyberbullismo e il sexiting. Ecco, quando si è accorto, questa è una mia curiosità, che bisognava far qualcosa, bisognava intervenire dove si dovevano organizzare degli incontri, dei convegni? Molti anni fa già, perché io ho iniziato che avevo 14 anni e quindi quello che spiace è che in questa società si dè importanza a tante cose, a riempire i ragazzi di nozione, ma aver trascurato l'educazione, l'educazione civica, la gentilezza e tutto questo ha portato ad una società, quella che stiamo vivendo, sempre più alla deriva. La scuola può fare molto, un suggerimento che lei si sente di dare agli insegnanti e agli educatori? Il suggerimento che do agli insegnanti è non fate gli insegnanti se non amate il vostro lavoro, se non avete empatia con i ragazzi, oltre che a competenze. Non basta uscire con una laurea da 110 lode, bisogna amare profondamente questo lavoro per poter trasmettere ai ragazzi il vostro sapere. Presidente Incornato, un messaggio invece diretto ai giovani? Non smettete mai di essere curiosi, di informarvi, non smettete mai di essere attenti alle possibilità che avete, smettetela di avere amici virtuali, incontratevi in un prato, mangiate un panino, andate in bicicletta con i vostri amici, create e vivetevi i vostri amici reali. Abbiamo visto anche qualche immagine dei vostri convegni, vogliamo ricordare il vostro sito, un punto di riferimento dell'Associazione Insieme di Più, basta andare su Google penso. Sì, basta andare su Google e digitare Associazioni Insieme di Più. Grazie all'Associazione Biellese Insieme di Più e complimenti per quello che state facendo e poi per il programma Fitto che avete per il 2024. Grazie per essere stati con noi e speriamo di avere ospite nuovamente la Presidente Elisa Incornato. Grazie a voi. Salve a tutti. In questo spazio parleremo delle attività di volontariato svolte dalla sezione WILDM, acronimo di Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, di Chivasso, intitolato al fondatore Paolo Otelli, affetto da distrofia, al fiere di tante battaglie per i diritti delle persone con disabilità mancato nel 1988. Con noi c'è il Presidente della sezione WILDM di Chivasso, Renato Dutto, a cui chiediamo due parole sulla nascita della sezione. Sì, Paolo Otelli era una persona affetta da distrofia muscolare che nel 1983 decise di replicare nella zona di Chivasso le battaglie che lui già fece nella WILDM di Torino per una città a misura di disabile, per il diritto dei trasporti, per il diritto alla casa, il diritto al lavoro. E iniziò le sue battaglie anche nella zona di Chivasso e io sono uno tra gli amici che lo sostennero e quando nel 1988 purtroppo mancò decidemmo di proseguire le sue attività. E nel marzo del 2023 abbiamo celebrato proprio i 40 anni dell'attività della sezione. Entriamo adesso nel dettaglio delle attività svolte dalla WILDM di Chivasso. La WILDM di Chivasso conta 160 soci, di cui una trentina attivi. La nostra sede si trova in Via Paleologi 2 a Chivasso. Ci riuniamo ogni giovedì sera alle ore 21 come consiglio direttivo, ma tutti i soci e tutte le persone interessate all'attività possono partecipare. La nostra sezione sostiene le famiglie tramite contributi economici straordinari, il bando dei soggiorni estivi per agevolare le persone con distrofia, trascorrere qualche giorno di serenità in vacanza con la famiglia. Promuoviamo l'attività sportiva per disabile, abbiamo organizzato vari tornei di hockey, anche una tappa del Giro d'Italia di handbike con la partecipazione di centinaia di atleti. Abbiamo attivato un servizio di sostegno psicologico alle persone con distrofia o con malattia genetica e tramite un automezzo che ci è stato donato, ogni giorno attraverso una dozzina di autisti volontari, forniamo un servizio di trasporto per le persone in carrozzina o con difficoltà motorie. Tra le vostre attività figura anche il progetto del diritto all'eleganza, di che cosa si tratta? Il diritto all'eleganza è un progetto della WIN nazionale, a cui aderisce anche la WIN di Chivasso, WIN nazionale che vi ricordo conta oltre 60 sezioni in tutta Italia. La nostra referente di sezione è la stilista Cesarina Perrone e l'obiettivo è di vestire bene le persone con disabilità che hanno il diritto di essere eleganti quando lo vogliono, in occasioni importanti così come nelle occasioni di tutti i giorni. Dalla rassegna stampa che ho consultato vedo che Chivasso viene spesso definita come una sorta di capitale di Teleton in Piemonte. Perché avviene tutto ciò? Ma forse si tratta di una definizione un po' esagerata. Certamente c'è un grande impegno da parte della WILDEM che ricordiamo a livello nazionale ha fondato Teleton proprio perché occorre fare ricerca scientifica sulle malattie genetiche e anche sulla distrofia muscolare. Dal 1990 da quando è nata Teleton, WILDEM di Chivasso così come tante altre sezioni in tutta Italia si impegnano su questo fronte per raccogliere fondi, per organizzare banchetti con i cuori di cioccolato. Ci sono 2960 progetti in diversi ambiti della ricerca, 630 malattie genetiche indagate con un investimento di 660 milioni di euro per 1720 ricercatori finanziati. Questi sono i risultati di Teleton ritenuti dalla WILDEM di Chivasso e di tutte le altre sezioni proprio per cercare di arrivare all'obiettivo di scrivere la parola cura accanto a ciascuna malattia genetica. Ben trovati a tutti, ANAP, Associazione Nazionale degli Amici per la Pelle. Il nome dice già tutto, ci occupiamo di malattie dermatologiche croniche principalmente perché sono le più diffuse di malattia psoriasica che vuol dire psoriasi e la sua sorella gemella, se possibile anche peggiore, artrite psoriasica, vitiligine e tutte le altre malattie con caratteristiche sia autoimmuni che di cronicità in generale. Malattie che sono molto diffuse, psoriasi colpisce il 2% della popolazione in Italia, quindi presto fatti i conti e soprattutto la vitiligine più o meno siamo intorno all'1-1,5%, ma soprattutto patologie che hanno delle gravi complicazioni perché non sono soltanto malattie della pelle, quindi estetiche, ma sotto hanno tutta una serie di comorbidità, si chiamano malattie concomitanti per cui il soggetto colpito viene maggiormente predisposto, le malattie cardiovascolari, le malattie metaboliche come il diabete, l'obesità, le stesse malattie reumatiche perché effettivamente sono collegate le un e le altre in quanto patologie autoimmuni. Eppure sono malattie che non sono viste, non sono viste non tanto dalla popolazione in generale, ma dalle istituzioni e portano con sé dei drammi veri e propri nelle persone che le vivono perché immaginate un bambino che debba lottare quotidianamente con un prurito che non gli lascia tregua e non si deve grattare. Pensate ad un adolescente che ha i primi approcci con l'altro sesso e magari proprio in quelle zone lì ha delle chiazze bianche o delle croste, è difficile rapportarsi con serenità. Pensate ad un adulto che abbia queste malattie, psoriasi e vitiligine, localizzate sulle mani o sul volto e abbia un'attività a contatto con il pubblico. La cosa più dolorosa è vedere qualcuno che esita nel momento in cui ti dà la mano, eppure è una cosa che chi ha la psoriasi o la vitiligine vive quotidianamente. Sono patologie che portano chiaramente ad un aumento della depressione, che in alcuni casi, anzi in un 30% dei casi purtroppo, fa venire delle brutte idee in testa e che in molti casi è uno dei motivi per cui si viene demansionati o addirittura si perde il lavoro. Il problema è che le istituzioni non ci vedono, non ci vedono perché di psoriasi o di vitiligine effettivamente non si muore, ma vi posso garantire che si vive veramente in una maniera molto cattiva. La qualità di vita è pessima ed è necessario che si sappia che queste malattie non portano con sé una contagiosità che invece è ritenuta tale dalla maggior parte della gente. Quindi per chiudere, io direi di focalizzare l'attenzione per questo primo incontro su quattro punti. il primo è che le malattie dermatologiche croniche non sono contagiose, sono malattie autoimmuni, sono malattie curabili, non guaribili. Il riferimento deve essere il dermatologo con cui dobbiamo essere pronti a combinare, a concordare la terapia perché la miglior terapia è quella che tiene conto anche delle nostre esigenze di vita, di attività sociali, di attività fisiche. Terzo punto, cerchiamo di fare in modo che le malattie che ci colpiscono la pelle diventino un elemento distintivo e impositivo. La vitiligine come ce l'ho io, ce l'ho soltanto io, nessun altro ce l'ha uguale. Idem dicasi per le chiazze di psoriasi purtroppo. Per cui cerchiamo di farne un elemento positivo. Non facciamo come Michael Jackson che si è sbiancato e ci ha rimesso poi la pelle a furia di combattere la sua vitiligine. Ultimo punto, cerchiamo di fare in modo di non nasconderci. Cerchiamo di vivere la psoriasi, la vitiligine nella maniera più serena possibile perché più la viviamo male e più aumentano. Io vi ringrazio per l'attenzione e mi auguro che siate interessati a queste problematiche.